Peppa e la spesa George, oggi dobbiamo andare a fare la spesa, non ti ricordi? Dinosauri! Dai, comincia a vestirti, George! Dinosauri! Ok, adesso siamo pronti per andare! Dunque, cosa dobbiamo comprare per la spesa? Giorgio, tu sai qualcosa? Mele e cipolla! No, non è mele e cipolla, George! Io mi ricordavo... Vediamo un po'... Ah, sì! I fiori di nasello, quelle che piacciono a te! Poi... Il... Poi... Aspetta... I pastoncini... I pesci... E poi... Aspetta... Aspetta, aspetta... La insalata con pomodori... Cipolle... E lattughe! Va bene, andiamo a comprarle! Sì, sì! Dinosauro! 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 Cactus! 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 George, questo cactus non è in vendita! E poi a noi non ci serve! Mica la mamma e il papà hanno detto di comprare il cactus! 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 Ah, le dedo! Da questa parte... Da questa parte c'è la lattuga! Oh! Oh! Dinosauro! Guuu! Sì, è proprio qui la lattuga! Prendiamo... Pomodoro, cipolla... Pesciolino... Fiori di nasello! Andiamo alla cassa! Oh! Che bella spesa! Ecco qua la spesa! Mmm... Adesso vedremo quanto costa! Allora... Pomodoro! Vediamo un po'... Vediamo... Mmm... Novantotto... Euro! Mmm... Mh... 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 Pannocchia... Vediamo... Mh... 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 vediamo un po 140 euro va bene e io visto questo sottino io pago va bene ma una cosa dobbiamo vedere un po l'insalata quanto costa che ce ne siamo dimenticati vediamo un po l'insalata la mia propria vita 92 euro va bene che bella spesa che abbiamo fatto quante cose buone da mangiare ragazzi lasciate un pollice in su ed iscrivetevi al canale ciao